allora vediamo un pochino facevo sul su anziché muovere il mouse muovevo sul quaderno ragazzi mi si sente bene ci siete c'è qualcuno la cosa dice non dice niente forse ancora non c'è nessuno in diretta però la dici che siamo in diretta bimbi sapete leggere si a 20 spettatori ci sono ciao amici ciao a tutti dal mare e qui ci siamo tutti noi di casa spisni sposto un po i pomodori perché non si vede meglio alessia va bene tanto voi voi avete visti avete visti bene questi sono i pomodori del mare dovete sapere che questi sono la passione smodata di mia figlia che viene al mare non tanto per il mare anche se gli piace però è per i pomodori è vero va bene allora come vi ho detto benvenuti noi siamo al mare abbiamo ripreso le nostre buone abitudini che sono quelle della diretta e non è che noi non vi abbiamo visto non viene non ci siamo fatti vedere né sentire perché facevamo non è vero ci siamo divertiti ci siamo divertiti bimbi sì 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 però la verità è che io ho chiamato un tecnico ho chiamato una azienda per farmi dare la wifi è venuto il tecnico che ci ha messo un po è vero quando è stato qua cosa ci ha detto non si può fare non si può fare niente si può fare niente allora via chi ha un'altra compagnia insomma finalmente ieri mattina è venuto il tecnico giusto ha tirato giù dal letto tutti quanti alle 8 mezzo vero e però oggi abbiamo la wifi quindi oggi subito la prima cosa avevamo voglia di salutarvi e vi stiamo salutando vedo che mi stanno salutando vabbè che siamo ancora un po giù di corda va bene comunque noi siamo al mare e voi come state come siete qui fa un freddo polaro attenzione a guido anzitutto ciao a tutti e ci sono anch'io sono dietro le quinte ma guido dice occhio al sole siete rossi come dei pomodori come i pomodori della mamma guardate qua noi siamo tutti più rossi guardate tutti più rossi bene perché siamo stati bene oggi abbiamo fatto il bagno loro hanno fatto il bagno io sono riuscita a leggere ben tre pagine di un libro ecco ben tre prima che mi chiamassi ciao a tutti guarda ma di angela voi bimbi che ci vedete meglio anche senza gli occhiali intanto guardate qua è per il momento sono tutti saluti e quindi anche noi vi salutiamo molto 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 e vorremmo anche sapere perché per esempio noi qui siamo al mare e stiamo bene anche se dunque noi avevamo oggi mi sono informata 32 gradi 60 per cento di umidità e il venticello a 10 chilometri all'ora da nord est si stava da dio in spiaggia va bene anche qui a casa al momento stiamo un po' grondando noi perché abbiamo chiuso perché e perché abbiamo chiuso le finestre perché c'è il rumore dei treni delle macchine che nella statale poi dietro c'è la ferrovia bene quindi adesso diamo un caldo esagerato ci sono mamma che si svendono con il ventaglio quindi abbiamo chiuso tutto per sentirci bene anzi vi chiedo un feedback per favore mandate un pollice su un like se si sente e si vede bene perché questa è la serata di prova per salutarvi e per dirvi che ricominciamo le ricette in diretta da domenica ore 21 come da buone abitudini la domenica ore 21 allora intanto però abbiamo voluto vedere che si vedesse che si riuscisse a fare il collegamento e che si senta e si veda bene quindi per favore voi 450 che siete qui con noi mi dite 400 avete ragione io da qua non avevo neanche gli occhiali allora la c'è scritto chi c'è quanti sono esatto e qui dico ci sono le domande bambini allora esatto lo pollice su vuol dire che si vede si sente bene allora noi oggi avevamo il cantiere è vero non gli raccontiamo niente questa gente abbiamo avuto un evento oggi abbiamo esatto è l'ordine successo vi spiego tutto io allora praticamente c'erano stena grandoschie ma non erano proprio navi vero era il barcone con sopra dei grandi sassi ma quanti sassi no troppi troppi tonnellate perché ce n'era una enorme la largo c'era una nave enorme con tre carichi di sassi tra i carichi l'ha deciso lui con tanti sassi grossi scogli erano sassi grossi e praticamente ce n'era una con la gru insomma da c'è una spiegazione più scientifica per favore alessia perché mi sa che era la nave che metteva gli scogli allora diciamo che da ieri sera quando siamo venuti a casa c'erano già le due navi in fila che si vedevano all'orizzonte una enorme che sembra quasi una città piena 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 di scogli la piccola andava la con la gru si riempiva poi veniva dagli scogli li metteva giù perché così hanno non so perché le hanno messi come ha detto la spiaggia che si mangiava la spiaggia il mare si mangia la spiaggia e loro loro gli hanno messo un deterrente hanno messi sassi così non si può più mangiare la spiaggia penso spero invece come ha detto roberto come detto è il golfo di mara di di mauro come era perché questo c'era una teoria riguardo il fatto che se il mare si mangia la spiaggia allora è meglio mettere gli scogli per preservare un po il golfo beh insomma oggi noi abbiamo visto abbiamo assistito ai cantieri in spiaggia intanto vi porto il messaggio di michela che dice ciao spismi e che bei nipoti hai visto tre uno più bello dell'altro sono bravi sono bravi tutti bravi proprio quindi vi abbiamo raccontato cos'è successo però so anche che a bologna perché bologna sempre nel mio cuore ed è sempre nella mia chat so che hanno coperto stanno cominciando stanno andando avanti con i lavori e ravone sta già è già quasi coperto già fatto quasi il tetto così non viene più fuori quel discolo va bene adesso quando torniamo a bologna vedremo anche tutto il resto intanto ditemi un pochino da voi è caldo o non è caldo è questo come si chiama com'era il coso africano qualcuno se lo ricorda questo è il caldo africano che deve venire l'hanno chiamato caronte caronte doveva arrivare caronte è arrivato caronte e quando arriva quel caldo ah sì la gabriella dice che a genova in questo momento nel suo terrazzo sono a 31 gradi e voi siete bellissimi ecco che noi siamo benissimo gran bella è una gran bella cosa anche qui da noi adesso fan 30 gradi attenti però perché la daria vi dice che siete cotti però siamo cotti bene con tutti gli odori che ci vogliono con tutti i grassetti che servono no 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 stiamo bene stiamo bene poi volevo dire un'altra faccenda io giusto se abbiamo ancora un momento di tempo ce l'avete un po di tempo da dedicarsi due minuti solo vorrei vorrei che ci raccontassi una storiella lo sai una storiella da dirci perché voi dovete sapere che non sta mai zitto ne racconta di tutti i colori è vero quella del cane giallo ce l'ha quella del cane giallo ah giallo giallo un pugno ma sapete la storia giallo un pugno no era la macchina gialla perché io c'ho il vestito non conta niente allora bisogna raccontare questa cosa qua dovete sapere che noi facciamo così giusto come si fa c'è sempre una panda giallo nel parcheggiato si è questa qui abusa e mi picchia ogni volta che la vede perché è un gioco è un gioco racconta che cosa vuol dire che quando tu vedi una macchina gialla bisogna fare un pugno atomico che mi fa volare via il braccio no non è vero che mi fa volare via il braccio però succede così quando c'è una macchina gialla prendi un pugno e qual era quello dei due pugni con la bici gialla la bici gialla tre pugni tre pugni e un vestito giallo zero niente allora noi facciamo oggi quanti ne avete visti chi ha preso più pugni io ho preso più pugni beh però non sei bernoccoluto aspetta che c'è una domanda c'è una speranza la lisa dice che in valcamonica temporale lì fa freddo brava dai un po di arietta di valcamonica e tutti gli altri invece mi sa che il nostro io non sto leggendo perché sono un po distante loro sono impegnati e calabria fa caldo sono scappata da bologna ma anche qua non scherza e vedi noi non siamo scappati però no dire la verità quando siamo stati bene oggi è perché siamo stati giù al mare e questo momento è caldo perché chiuso ma la brezza c'è allora la storiella ce l'hai detta non ce l'hai detta la storia come stai dovete sapere che i miei figli lo chiamano borribob il povero bert ma è sempre lui è molti nomi ma sempre lo stesso grande personaggio ciao allora sta storiella ce l'hai non ce l'hai perché una ecco chi è che è sempre il solito lui lui deve venire a mettere il naso dappertutto scommettiamo che vediamo se avete capito chi era che voleva entrare per forza vediamo c'è qualcuno che lo dice vediamo che lo sapeva bene grazie ciao vorrei sta bene vorrei sta bene c'è anche l'alice ciao alice cara ciao francesca vi dice circondata dai nipotini che belle che siete quindi anche te sei bella unice per genere maggioritario va bene allora visto che oggi non ci siamo preparati la storiella perché è stato tutto così se ce l'hai al volo se noi salutiamo perché la gente come può stare sempre qui con lui anche se me fa tanto piacere veramente simpatica ce l'ho ce l'ho eh torre di controllo nome altezza e posizione mi chiamo marco sono alto 1 70 e sono seduto ecco va bene ecco lui con le sue freddure ci rifresca le giornate va bene va bene è come sempre e va bene allora ci prepareremo per altre storielle va bene facciamo trovare esploso giuseppe è cosa dice giuseppe alessandri com'è che esploso è venuto grande non so perché è venuto dal canada ma ci salutano dal canada beh va bene ragazzi tanto io ti leggo tutti non lo so ma tanto adesso è venuto grande non lo so dire tanto io mi leggo tutti vi rispondo a tutti e vi saluto tutti con tanto affetto ci vediamo mi raccomando domenica ore 21 non su facebook su youtube facciamo la diretta con la ricetta come sempre facevamo al venerdì su youtube la ricetta in diretta vediamo cosa riusciamo a mettere su perché qui siamo nella cucina del mare ma soprattutto perché non vogliamo morire di caldo quindi faremo delle cose fresche e veloci da stare in ferie da starci comodi e mangiare bene va bene allora adesso salutiamo tutti se non ci sono altre domande particolari altre cose qualcuno ha indovinato vi salutano tanto tutti hanno indovinato hanno detto il grande salvatore era proprio il vero chiamare tuo zio per favore di che venga a dire un ciao al volo è impresentabile va bene allora nel frattempo non c'è più va bene allora vi salutiamo tanto noi e comunque avete hanno indovinato ciao a domenica ore 21 su youtube ciao ciao a domenica ore 21 su youtube ciao